risarcimento per danni risarcimento per danni morali viene chiamato per danni fisici per danni risarcimento per danni sarà disse ecco ho dato mille pezzi d'argento a tuo fratello sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te così tu sei in tutto riabilitata genesi 20 versetto 16 siamo ancora nel capitolo di quando abramo è entrato nella terra di abimelech e poi abimelech ha preso ha preso sarà e pensando che fosse la sorella di abramo perché abramo aveva detto e mia sorella e anche sarà aveva detto sì sono sorella di abramo perché avevano fatto questo patto abramo e sarà sin da quando avevano iniziato il cammino dalla chiamata di dio ebbene abimelech dopo aver scoperto che sarà era moglie di abramo allora cos'è successo ha restituito sarà ha dato greggi armenti schiavi e schiavi e schiavi ad abramo e non solo poi c'è scritto che addirittura diede mille pezzi d'argento ho dato mille pezzi d'argento a tuo fratello così sarà per te un risarcimento di fronte a tutti quelli che hanno saputo questa cosa è un risarcimento così tu sarai riabilitata e perché magari hanno pensato male di te e quindi adesso sei riabilitata in tutto quando i giornali scrivono qualcosa di brutto di qualcuno a volte inventandoselo anche e poi invece viene a galla viene fuori viene riconosciuta l'innocenza della persona scrivono un trafiletto nella 32esima pagina al fondo nascosto in mezzo alle pubblicità in modo che nessuno lo legga perché non fa non fa notizia una cosa bella però la persona resta screditata davanti agli altri è molto brutta questa cosa e invece dio vuole che veniamo riabilitati e risarciti di quello che il nemico ci ha portato via ci ha fatto ci ha tolto anche come dignità come dignità il senso di colpa continua a toglierci dignità la lamentazione ci toglie dignità il paragone agli altri ci toglie dignità ecco che dio vuole intervenire nella nostra vita e far sì che abimelec cioè il nemico ci restituisca tutto e ci dia addirittura qualcosa in più perché io e te siamo riabilitati in ogni cosa e avvenga un risarcimento un risarcimento abbondante noi a volte chiediamo a dio signore dammi solo un pochettino dammi solo questo poi non ti pregherò più poi non ti disturberò più no non così fratello sorella non così carissimi noi dobbiamo avere questa fede che se è entrato il nemico in qualche modo e ci ha portato via qualcosa e ha leso anche la nostra dignità la nostra figura magari anche davanti agli altri dobbiamo pregare finché dio ordine al nemico di risarcirci deve esserci questo risarcimento dobbiamo riottenere tutto quello che abbiamo perso e anche di più e anche di più lo so a volte questo discorso sembra strano per noi cristiani cattolici ma invece no oggi tra l'altro primo luglio festa del preziosissimo sangue di gesù e gesù ha versato il sangue perché io e te fossimo risarciti perché io e te potessimo uscire completamente dalla schiavitù totalmente ha versato il suo sangue preziosissimo il goel il redentore c'è una piena redenzione e nella redenzione secondo dio c'è anche un risarcimento e c'è una riabilitazione riabilitati sapete o avevo lavorato in una clinica di riabilitazione significava riportare alla piena capacità le persone che avevano avuto un trauma un'operazione un danno dio vuole con la sua presenza la sua potenza col suo preziosissimo sangue riabilitarci in ogni cosa ridarci la piena dignità e risarcirci farci dare il risarcimento per quello che c'è stato tolto e allora possiamo solo pregare credere e confidare in dio in questa cosa dobbiamo avere però fede perché se noi non siamo a conoscenza di tutto questo non richiediamo il risarcimento ecco che l'ignoranza non paga noi dobbiamo sapere conoscere conoscere queste cose e oggi dio te le sta dicendo attraverso questo questo passo biblico genesi 20 16 te lo sta dicendo me lo sta dicendo e allora possiamo pregare se siamo incappati nei briganti se siamo incappati nel nemico se abbiamo peccato se anche a causa nostra è successo qualcosa perché il nemico è riuscito a infilarsi nella nostra mente nel nostro cuore ecco che oggi possiamo pregare proprio per questo risarcimento e riabilitazione genesi 20 16 a sara disse ecco ho dato mille pezzi d'argento a tuo fratello sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te così tu sei in tutto riabilitato padre eterno e santo veniamo a tenere il nome di gesù dopo aver ascoltato questa parola chiedendoti di intervenire potentemente contro abimele che ci ha portato via delle cose che ci ha tolto la dignità che ci ha umiliati ma tua parola dice che tu innalzi gli umili sì signore bene per me che io sia stato umiliato perché tu possa ora glorificarmi sì signore noi vogliamo credere in questa tua opera di riabilitazione della nostra vita e anche di risarcimento sì signore tu costringerai il nemico nell'esistenza di tutti i giorni ora a restituirci quello che ci ha tolto sì signore saremo risarciti lo dice anche un altro passo voi che avete vissuto la mancanza ecco ora avrete in cambio quello che non avete avuto prima ordinerò agli eventi dice dio ordinerò la campagna di darvi quello che non vi ha dato negli anni passati vogliamo pregarti allora per la nostra salute per l'economia per l'affettività per la nostra dignità per tutto quello che abbiamo perso che ci venga restituito tutto e addirittura di più tutto e addirittura di più signore tutto e addirittura di più sì padre te lo chiediamo nel nome di gesù esercita la tua potenza contro il nemico contro questo abimele e fa che nella vita quotidiana che nella vita pratica ci sia questo risarcimento e che possiamo tornare essere riabilitati ritrovare la pienezza della vita e addirittura l'abbondanza e scoprire così che veramente possiamo essere vittoriosi in ogni situazione amen allora in questa festa oggi del preziosissimo sangue di gesù invochiamolo su tutti noi sui nostri cari sui nostri averi invochiamolo nelle situazioni anche di di morte di distruzioni di perdita che abbiamo avuto in quelle invochiamo il sangue di gesù in quelle situazioni dove sembra non sbloccarsi niente e dio attraverso questo sangue preziosissimo farà sì che abimele che il nemico ci restituisca che ci restituisca tutto quello che ha preso addirittura ci sarà un risarcimento e noi saremo completamente riabilitati ritorneremo nella pienezza della vita dio vi benedica grandemente ci rivediamo domani mattina 7 15 maratona di preghiera e poi domani sera ci sarà la serata taleva e vedremo abramo che giunge alla pienezza delle promesse